Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione merci, affiliato TSS Gruppo per la distribuzione regionale e DHL per quella nazionale e internazionale. È in edicola in questi giorni Lo Scoglio, la rivista di storia, cultura e varia umanità dedicata interamente all'Elba e alla sua gente. Il numero natalizio esordisce con Giuseppe Massimo Battaglini che ricostruisce le diverse fasi dello sviluppo del tessuto urbano di San Piero in campo a partire dal Medioevo. Segue poi Marcello d'Arco che svela il giallo delle due maschere di Napoleone conservate a Portoferraio. C'è poi Lucia Paoli che indaga sulla pesca del corallo nell'arcipelago toscano con documenti inediti scovati negli archivi spagnoli. Ma non potevano mancare i riferimenti al bicentenario dell'esilio di Napoleone. Gloria Peria si sofferma sugli ordini impartiti dall'imperatore per l'impianto di nuovi orti e giardini nei pressi delle sue abitazioni e nei viali di Portoferraio, mentre Mario Cignoni rivela le imprese di un singolare prete armatore incaricato da Paolina del trasporto di oggetti preziosi e denaro. Volete conoscere la vera storia di Chambert, il bizzarro personaggio che imperversò a Rio nella seconda metà dell'Ottocento? La racconta Carlo Angelini, il segretario comunale dell'epoca, che ebbe diverse occasioni di frequentarlo e di raccoglierne le confidenze. Nello scoglio fresco di stampa, Guido Retali ci accompagna in un viaggio nelle antiche botteghe di Marina di Campo. Fabio Rolla ricorda il soggiorno a Longone dello scienziato Lazzaro Spallanzani. Francesco Paolini rievoca i fatti e i personaggi più importanti di Marciana Marina dello scorso secolo. L'insediamento dell'industria siderurgica ottenuto dopo estenuanti battaglie è un tema che ancora oggi fa discutere per il disastroso impatto sui secolari equilibri sociali e ambientali. Ne valeva la pena? L'articolo, firmato da Umberto Gentini, di percorre le tappe che condussero alla scelta di Portoferraio e si sofferma sui danni subiti dal patrimonio monumentale e dall'assetto idrogeologico della città. La copertina riproduce un ex voto del capitano Ceccarelli, conservato nella chiesa del Santissimo Sacramento. L'inserto è dedicato a una rarissima foto dello stabilimento Ilva. nell'ultima di copertina, ecco un'immagine della Domenica del Corriere del 22 ottobre 1899, con due naufraghi elbani salvati dal provvidenziale intervento di una torpediniera.